Buonasera, buonasera dalla TG2000, questa è l'edizione delle 20 e 30, ben trovati a tutti voi. È conto alla rovescia per la sorte dell'esecutivo alla vigilia dell'annunciata crisi di governo. Mentre si attende domani il discorso del Premier Conte al Senato, scattano ipotesi di alleanza, parte in vantaggio il Movimento 5 Stelle, ma gli attacchi incrociati non mancano. Augusto Cantelmi. I 5 Stelle prendono tempo in attesa del discorso di domani di Conte al Senato, non apriamo, chiudiamo, nessuno la parola aspetta al colle, ma bocciano qualsiasi accordo con Renzi e Laboschi, bufale lanciate dalla Lega, accusa Di Maio nel corso del vertice dei parlamentari grillini a Montecitorio. Non dico niente, quindi se mi pressate non passo, quindi potete farmi tutte le domande. Salvini da parte sua insiste nel voler ricucire con i 5 Stelle, noi siamo pronti al taglio dei parlamentari. Il PD invece frena, nessuna trattativa in corso, spiega Zingaretti che attende gli sviluppi della crisi col passaggio al Senato di domani. O si verificano le condizioni per un governo forte e di radicale rinnovamento durante le consultazioni, oppure è meglio il voto. Parola dunque a Conte che dopo il discorso potrebbe recarsi al Quirinale per le dimissioni, ma resta solo un'ipotesi come gli scenari futuri. Dal Conte bis al governo di scopo per fare la manovra economica, il patto legislativo proposto da Prodi e la cosiddetta coalizione Ursula, tra le forze che hanno eletto la Presidente della Commissione Europea. E di crisi del Paese ha parlato il Presidente della CEI, Cardinale Bassetti, ospite del meeting di Rimini. Nel suo intervento parole per i giovani e il futuro. Marco Bergamaschi. La primavera italiana, io proprio siamo ancora un po' nella notte. Risponde con una battuta il Presidente della CEI, Cardinale Guantiero Bassetti, alle domande sulla situazione italiana al meeting di Rimini. La crisi c'è e la crisi va affrontata con tutte le forze e quindi ho detto tante volte che bisogna incentivare l'industria, incentivare i posti di lavoro. Ci vuole un po' di coraggio a partire, se non si mette in moto la macchina, fra tre anni siamo ancora qui a dire la crisi. Il Presidente dei Vescovi italiani è intervenuto al meeting parlando di giovani e del loro futuro, giovani che è il suo invito, abbiano fiducia e speranza e spendano i loro talenti senza paura. Che abbiano coraggio, non si arrendano alle prime battute perché è proprio la mancanza di coraggio che alla fine paralizza, rende inerti e ti toglie quella forza vitale che ti spinge ad andare avanti. E sono ancora in mare i 107 migranti a bordo della nave Open Arms, la Spagna si offre per l'accoglienza, si chiedono aerei per il trasferimento a Madrid, ma è stato lanciato l'allarme su un possibile naufragio all'allargo della Libia e si temono numerose vittime, come ci racconta Massimiliano Cocchi. Trasferire i naufraghi a Catania e da lì in aereo portarli a Madrid è la proposta che arriva dalla Open Arms per cercare di uscire dallo stallo che dopo 18 giorni tiene ancora 107 migranti bloccati sulla nave a largo di Lampedusa. Il governo spagnolo ha offerto il porto di Minorca, ma tre giorni di navigazione sarebbero insostenibili per i naufraghi e per l'equipaggio della nave ormai allo stremo. Inoltre il trasferimento con navi militari italiane avrebbe costi superiori a quelli di un pontaereo. Il problema però è che nonostante sei paesi europei siano pronti ad accoglierli, il Viminale non vuole assolutamente cedere e continua a ripetere che quei migranti non devono toccare terra in Italia. Mentre a Lampedusa si discute, davanti alle coste libiche si continua a morire. Allan Fon, il sistema di allarme per le imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo, ha infatti dato notizia di un nuovo naufragio nel quale sarebbero morte un centinaio di persone. Un pescatore ha raccontato di aver soccorso tre persone in mare e di aver visto decine di cadaveri. Secondo la testimonianza dei tre sopravvissuti, una barca sulla quale viaggiavano almeno 100 persone si sarebbe capovolta. Se la notizia dovesse essere confermata si tratterebbe di un'altra strage, l'ennesima, perché dall'inizio dell'anno, secondo i dati diffusi qualche giorno fa dalle Nazioni Unite, sono 838 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo. E sempre nel Mediterraneo c'è un'altra nave, la Ocean Viking di Medici Senza Frontiere, che ha soccorso 356 persone e da dieci giorni aspetta che le venga assegnato un porto sicuro. Italia e Malta hanno già ripetuto il loro no e tutti gli altri per ora stanno a guardare. E dopo il ritardo dei soccorsi al turista francese morto poco dopo la richiesta di aiuto al 118, la Procura ha aperto una inchiesta. Polemiche per la carenza italiana nel sistema di geolocalizzazione dei cellulari per le chiamate di emergenza. Luigi Ferraiolo. Un'inchiesta è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania nel Salernitano per la morte del 27enne francese Simon Gautier, trovato in un vallone di San Giovanni Appiro. Le ricerche del francese, disperso dal 9 agosto tra i monti del golfo di Policasso, sono scattate in seguito alla telefonata che egli stessa effettuato al 118 quella mattina, intorno alle 9. Simon sarebbe morto subito dopo essere precipitato e aver chiesto aiuto nel giro di un'ora a causa di un'emoragia. Un'ipotesi che sembra confermata dal 118 della Basilicata. Il cellulare di Gautier, spiegano, venne fatto ripetutamente squillare dopo la chiamata e non rispose più. Il 27enne sarebbe arrivato giovedì 8 agosto a Policastro e avrebbe dormito in tenda sulla spiaggia di Scario. L'indomani ha iniziato il percorso diretto a Napoli, seguendo un sentiero di estrema difficoltà aperto dagli animali. I genitori hanno preso la notizia nell'albergo di Policastro. Con il padre e la madre c'è anche Giulietta, la sorella di Simon e molti amici. Sono proprio loro ad accusare. Sono stati compiuti errori fin dall'inizio. Una denuncia arriva anche dal presidente nazionale del servizio 118, Mario Balzanelli. Se l'Italia, spiega, avesse applicato la direttiva europea sulla geolocalizzazione del 2009, Simon Gautier sarebbe stato soccorso in tempi rapidissimi. Una norma non obbligatoria comunque, tanto che in molti paesi non è operativa. Il comune di San Giovanni Appiro ha proclamato il lutto cittadino. Gli Stati Uniti hanno testato un missile a medio raggio del genere vietato dal Trattato sulle Armi Nucleari non più attivo dopo il ritiro unilaterale di Washington. Lo ha comunicato il Pentagono. Il test è stato effettuato domenica scorsa nell'isola di San Nicolas, alla largo della California. Il Pentagono ha poi precisato che si tratta di un missile convenzionale, quindi non nucleare. E non si arresta l'onda della protesta ad Hong Kong. Gli attivisti annunciano nuove manifestazioni. La prima già domani. Nel grande corteo di ieri hanno partecipato oltre 1 milione e 700 mila persone. Pierluigi Vito. La protesta non si ferma. In una conferenza stampa alcuni rappresentanti dei quasi 2 milioni di cittadini di Hong Kong scesi in piazza ieri hanno ribadito le loro richieste. Ritiro completo degli emendamenti alla legge sull'estradizione verso Pechino. Dimissioni della governatrice Carrie Lam. Rilascio delle 700 persone arrestate dall'inizio delle proteste. E' un'inchiesta indipendente sull'uso della forza da parte della polizia contro i manifestanti. E vista la condotta pacifica della dunata oceanica di ieri, le forze dell'ordine hanno espresso soddisfazione per una giornata filata via tranquilla. Se i manifestanti sono ordinati e ragionevoli, la polizia non ha motivo di intervenire, dice il soprintendente Tse Chung Chung. Ma l'intervento più atteso e temuto è quello della Cina. Se l'opzione militare finora pare relegata alla pressione psicologica, con gli inviti di Trump e del suo vice Pence a rispettare la legge e la libertà della gente di Hong Kong, una risposta più incisiva viene dal fronte economico. Il governo di Pechino ha deciso di puntare sullo sviluppo della città di Shenzhen per trainare l'economia dell'area metropolitana del sud-est, dove vivono circa 70 milioni di persone e che da sola realizza il 12% del prodotto interno lordo. Il che vuol dire ridimensionare le possibilità di sviluppo di Hong Kong. I leader di grandi aziende americane stanno provando a modificare l'idea che le decisioni aziendali ruotino solo intorno a ciò che è meglio per gli azionisti, cioè il profitto ad ogni costo. Si tratta di Amazon, JP Morgan e altre 179 multinazionali che aderiscono al cosiddetto business roundtable. Le aziende dovrebbero prendere in considerazione tutte le parti interessate, scrivono nel documento, vale a dire i dipendenti, i clienti e la società e avere come fine la creazione di valore nelle comunità e nel paese. La Gran Bretagna ora ha le prese con la Brexit. Quanto costerà alle casse degli inglesi una uscita dall'Unione Europea senza aver strappato un accordo con Bruxelles? Lo scenario non è tra i più confortanti e se ne dibatte in tutto il regno, come ci racconta Leonardo Possati. Nome in codice Yellow Hammer, ovvero lo zigolo giallo, un piccolo passero. Così il Ministero del Tesoro di Sua Maestà ha battezzato un documento riservato che contiene previsioni su cosa accadrà il 31 ottobre prossimo, giorno della Brexit, nel caso non venga raggiunto con Bruxelles un accordo. Il Sunday Times, edizione domenicale del Blasonato Times, ha pubblicato questo documento. Lo scenario è tra i più inquietanti e in confronto gli oltre 84 miliardi bruciati finora dalle casse dello Stato per la Brexit sono spiccioli. La banca centrale inglese parla di un crollo del PIL dell'8%, con la disoccupazione che passerebbe dal 4,1 al 7,5%. Crescerebbero anche l'inflazione e i tassi di interesse, quindi, tra le altre cose, pressiti e mutui più cari. Il mondo dell'industria trema. La chiusura doganale derivante da un no deal congestionerebbe gli approvvigionamenti. Alimenti, medicine e prodotti di prima necessità verrebbero bloccati alla dogana e arriverebbero con enormi ritardi e i loro prezzi aumenterebbero sensibilmente. Il mancato accordo costerebbe ai britannici, secondo le stime del Ministero, oltre 2,2 miliardi di sterline l'anno solo per l'approvvigionamento energetico. L'esistenza di questo documento in realtà è nota da circa un anno, ma a differenza di settembre scorso, oggi mancano appena 73 giorni e il governo di Boris Johnson punta, in maniera decisa, in questa direzione. Fu la prima crepa nella cortina di ferro destinata a crollare assieme al muro di Berlino. A Sopron, nell'ovest dell'Ungheria, 30 anni dopo, la cancellera tedesca Angela Merkel e il premier ungherese Viktor Orban si trovano insieme. L'occasione è stata quella di un confronto politico anche sull'oggi, come ci racconta Marco Burrini. Un piccolo strappo nella cortina di ferro. No, non quello di 30 anni fa, che fu l'inizio della fine per il blocco sovietico, ma quello che oggi, forse, apre un varco nel blocco continentale antimigranti. Così pare la stretta di mano tra Viktor Orban e Angela Merkel al termine della conferenza stampa a Sopron, Ungheria, dove il 19 agosto del 1989 le guardie aprirono la recinzione con l'Austria, lasciando passare centinaia di tedeschi dell'est in fuga verso l'occidente. Doveva essere un gesto poco più che simbolico, un picnic paneuropeo. Invece divenne il prologo del crollo del muro di Berlino, tre mesi dopo. Oggi la cancelliera tedesca, che da giovane ha vissuto nella DDR con il padre, pastore luterano, ha partecipato alla commemorazione insieme al primo ministro ungherese. Le guardie di confine ungheresi non spararono, lasciarono entrare i tedeschi dell'est. Mostrarono coraggio, mettendo l'umanità al di sopra degli ordini ricevuti, ha detto la Merkel, mentre Orban elogiava l'ospite per come ha lavorato alla cooperazione europea. Poi, davanti alla stampa, Merkel ha rivendicato l'accoglienza ai migranti, pur insistendo sulla lotta ai trafficanti e su una politica comunitaria dei confini, mentre Orban ha ripetuto che l'Ungheria è un baluardo della cristianità, che il flusso dei migranti è una minaccia costante e che Austria e Germania devono ringraziare l'Ungheria, che fa da argine all'inondazione da sud. Poi, la stretta di mano. E adesso in Sud Sudan, dopo lo storico incontro in Vaticano e nonostante l'accordo tra militari e opposizione, la pace non sembra ancora vicina e le chiese condividono la preoccupazione per il futuro del paese. Paolo Fucili. La lentezza del processo di pace in Sud Sudan preoccupa le chiese cristiane locali, riafferma il segretario generale della Conferenza delle Chiese Africane, il reverendo Fidon Muombeki, luterano tanzaniano. Parole pesanti, dopo che Papa Francesco, lo scorso aprile, per implorare la pace in quel paese, si era prostrato letteralmente ai piedi dei leader politici di governo e opposizione, invitati in Vaticano, nell'attesa di poter lui visitare, desiderio espresso più volte, il Sud Sudan. Un gesto eclatante che non ha prodotto, però, si direbbe, la sospirata accelerazione del cammino verso la pace. Dopo sei anni di guerra civile in Sud Sudan, per la rivalità tra le principali etnie, Dinka e Nuwer, con in ballo anche forti interessi stranieri per i ricchi giacimenti di petrolio sud sudanesi. Massacri, saccheggi, torture, stupri di massa, col resto del mondo indifferente, a quasi mezzo milione di vittime e quattro di profughi. Un inferno con pochi uguali nel mondo intero. Sono deluso, dice Muombeki, perché troppi ostacoli si frappongono all'ultimo traballante accordo siglato a settembre 2018 per far tacere le armi. La Spagna, ancora in fiamme l'isola di Gran Canaria, 9.000 le persone evacuate, ma a bruciare anche l'Italia. Allarme in diverse regioni, tra cui Sicilia, Calabria, Molise e Sardegna. Ci aggiorna Luca Licata. Non riesce a uscire dalla morsa del fuoco l'isola di Gran Canaria. Le fiamme, infatti, hanno superato anche i 50 metri di altezza, continuando ad avanzare, senza controllo. Al momento, 6.000 ettari di vegetazione sono stati divorati dal vastissimo incendio, scoppiato sabato pomeriggio. Diversi roghi, negli ultimi giorni, hanno colpito l'isola spagnola. Al lavoro sono in 700 tra vigili del fuoco, militari e volontari, oltre al supporto aereo di 11 elicotteri, 4 idrovolanti e un aereo. Il forte vento, però, unito all'elevata temperatura e alla scarsa umidità, non agevolano le operazioni di spegnimento delle fiamme, mentre 8.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni ed una quarantina di villaggi sono stati evacuati nella zona di Valleseco. Elicotteri canadere in azione, infine, anche nella giornata di oggi, in diverse regioni italiane, come Sicilia, Calabria, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata e Sardegna. Si tratta prevalentemente di incendi boschivi. Sono otto i roghi finora spenti o tenuti sotto controllo. E parliamo adesso di un gesto fortemente raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta dell'allattamento al seno. Per i primi due anni di vita potrebbe salvare la vita ad oltre 800.000 bambini di età inferiore ai 5 anni. E così, a Manila, nelle Filippine, le mamme sembrano aver preso sul serio l'invito dell'OMS a non rinunciare ad allattare anche in pubblico. Lucia Ascione. Allattare al seno fa bene ai bambini perché protegge i neonati dalle infezioni. Migliore è il quotiente intellettivo dei futuri scolari. Riduce il rischio di cancro al seno delle mamme. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lo afferma da sempre, tanto da programmare periodicamente campagne a sostegno dell'alimentazione più naturale che esista, ma di impedirlo in alcuni paesi. Non solo i tempi dettati da esigenze lavorative delle mamme, spesso costrette a recuperare dopo il parto a tempo record, ma questioni di etichetta di bon ton. Da Manila arriva una singolare manifestazione di pacifica protesta di un migliaio di agguerritissime neomamme contro la dilagante cultura che relega in spazi nascosti e frequentemente poco areati le donne con i loro piccoli al seno. Perché dobbiamo essere allontanate, chiede mamma Mayen. Tutto avviene in condizioni igieniche ottimali, sterili. L'adattamento non porta a infezioni. Perché dobbiamo farlo di nascosto? E in tempi di crisi globale, aggiunge Normi Alvaira Herrera, coordinatrice dell'evento, non va sottovalutato il risparmio sulla spesa sanitaria. I bimbi nutriti con il latte materno si ammalano di meno, anche da adulti. Correre per il futuro. Una corsa benefica, organizzata dalla fondazione Run for Future, sfila nella baraccopoli di Kibera, la più grande di tutto il Kenya. Ed è stato un successo. Cesare Cavoni. Al centro dell'inferno, per raccontare chi non ha inferno e dargli spazio. Potrebbe essere questo lo slogan preso in prestito dal romanzo Le città invisibili di Italo Calvino, per rappresentare la maratona I love Kibera, la corsa svoltasi ieri tra le baraccopoli di Nairobi in Kenya. Questa corsa, tra gli invisibili, gli ultimi della terra, è organizzata dalle fondazioni Run for the Future, Coinonia e dalla no profit Amani. La manifestazione si è snodata lungo un percorso di tre chilometri per una camminata e uno di dieci per la corsa. Pochi anni fa c'era una grande discarica, era tutto abbandonato. Oggi è diventato un terreno dove giocano i bambini. E questa è stata un'attività promossa, voluta dalla gente locale, ma poi aiutata dal governo, aiutata da altre istituzioni. A Kibera, gli invisibili, secondo un censimento del 2009, sarebbero 170 mila, ma sono in molti a calcolare invece perfino un milione di persone che vive senza energia elettrica, acqua, assistenza sanitaria e con un tasso elevatissimo di contagio da HIV. I soldi raccolti dalle iscrizioni serviranno per mettere in piedi un progetto di prima accoglienza per i bambini di strada di Kibera e un centro di fisioterapia recupero per bambini con handicap, nonché donare 30 alberi alla moschea di Salama per avviare la nascita di un parco. È tutto, il nostro saluto prima della sigla lasciandovi a queste immagini, quelle davvero impressionanti, dei campionati di parapendio in corso in Nord Macedonia. Grazie per averci seguito e a domani. Grazie per averci seguito e a domani.